Luigi Carbone I sapori della campagna in vetrina a Chicago all'NRA Show, il salone dell'alimentare più grande del Nord America con 70.000 visitatori Dopo Amsterdam e Londra, Bella Vita Expo in collaborazione con l'Italian Food Trade Agency del Ministero dello Sviluppo Economico ha portato alla ribalta a stelle e strisce eccellenze dell'enogastronomia regionale e nazionale con oltre 60 espositori Unisce le aziende italiane e fa comunicazione per i produttori dell'italianità Crescente l'interesse del mercato americano da sempre attratto dai prodotti italiani L'olio di oliva, il vino italiano, la pizza sono da sempre diffusissimi sul territorio americano e c'è sempre più fame di questi prodotti e c'è sempre maggiore attenzione alla qualità dei prodotti che vengono importati Spettacoli, degustazioni, show cooking Masterclass tra tradizione e innovazione con tante celebrità della cucina mondiale tra queste lo chef Graham Elliot 50 milioni di followers nel mondo Mi sono sempre piaciuti gli ingredienti e i prodotti italiani ma non avevo idea di quanto fossero genuini qui entrando nel loro mondo parlando con i produttori e con la rete di distribuzione ora vado via con tutt'altra conoscenza e consapevolezza Now you walk away with this great understanding iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale